Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi continuiamo la serie sul detailing e andrò a farvi vedere la tecnica del pre lavaggio oramai magari qualcuno di voi già sa di cosa si tratta e proprio in questo caso in particolare andremo a vedere la tecnica del pre lavaggio con la foam gun che è questo attrezzo qui questa è una Lancia Foam che avevo da tempo ma in descrizione vi lascio quella di Carlo e andremo ad utilizzare anche questo shampoo questo è il Foam Party Snow Foam l'ho già testato come potete notare così da capirne bene le diluizioni e ho dedotto che la diluizione migliore per la mia idropulitrice è 1.5 e 1.10 quindi preparo le varie diluizioni le metto qui in questo contenitore questa goccia e poi siamo pronti per andare a fare il pre lavaggio dopo aver pulito i cerchi prima di andare però di là a preparare la macchina vi voglio spiegare un po' il funzionamento della pistola principalmente ha due rubinetti questo sopra e questo sulla Lancia questo apre e chiude queste due linguette queste due linguette metalliche cosa fanno? praticamente se il getto è aperto così in questo modo il getto verrà sporato a modo di proiettile mentre più queste si chiudono più è schiacciato e più il getto dell'acqua sarà a ventaio quindi se questa è chiusa spara a ventaio più questa è aperta e più spara a pistola cosa serve invece quest'altro rubinetto? questo rubinetto serve per la miscelazione di soluzione e acqua quindi questo dipende un po' dalla LanciaFone perché alcune funzionano al contrario e altre funzionano come la mia per esempio la mia qui c'è un meno e un più non so se si vede dalla GoPro questo più lo andiamo a chiudere verso il meno e più uscirà la soluzione quindi più invece sarà rivolto verso il più e meno verrà presa la soluzione dal recipiente però questo è tutto a discrezione dell'utente e dalla tipologia di soluzione che noi andremo ad applicare io per esempio con diluzione 1.5 bar 1.10 vado a chiudere completamente il rubinetto sul meno quindi ragazzi vi ho fatto questa breve infarinata andiamo subito a lavare la macchina dopo l'intro ok ragazzi volevo parlarvi un po' del prodotto che ho utilizzato ovvero il fan party che avete visto prima della Liquid Elements questo è un detergente ad alto schiumogeno come potete vedere fa una schiuma assurda e è adatto appunto come prelavaggio sia a mano che con la phone gun che ho utilizzato in questo video come dicevo prima da istruzioni del prodotto andrebbe diluito in soluzioni 1 a 20 ho provato ma il risultato non era di mio gratimento quindi ho dovuto studiare un po' il prodotto e sono arrivato appunto alla conclusione che 1.5 1.10 è la diluzione migliore per la mia lancia foam e la mia idropulitrice e quindi niente andiamo praticamente a rivestire tutta la macchina in parti uguali quindi nella maniera più uniforme possibile con la schiuma la lasceremo agire per un po' di tempo così che tutto lo sporco riesca a togliersi a sganciarsi ad ammorbidirsi e così possiamo andare a fare un'azione il più pulita possibile dopo con il guanto quindi dopo non andremo a rovinare la carrozzeria provocando quei fastidiosi graffi chiamati swirl ecco e proprio a questo serve il prelavaggio ragazzi il prelavaggio serve a togliere il primo strato di sporco dalla carrozzeria il metodo più corretto è quello con lo spruzzino a mano ma anche questo è efficace e è anche bello da vedere oltretutto con un pennellino sempre in dotazione grazie a Carlo mi sono pulito bene tutte le guarnizioni qui magari se avessi avuto un rimuovo insetti o qualcosa del genere si può andare a spruzzare però non è obbligatorio ecco e niente con il pennello andiamo a pulire tutte quelle parti più piccole e più scomode che con il guanto magari non riusciamo ad arrivare per esempio guarnizioni tergi cristalli io ci passo anche sopra l'adesivo così non lo vado a rovinare con il guanto vado a pulire bene la griglia molto importante perché la griglia con il guanto è veramente impossibile pulirla invece con questo pennellino la possiamo andare a pulire per bene in quanto essendo fino si riesce a infilare da tutte le parti quindi è un attrezzo veramente utile vi lascio il link in descrizione magari me ne comprerò altri inoltre sono usciti quelli nuovi prodotti proprio da Carlo dalla SD solo dettagli car care eccoci dunque a risciacquare la macchina io procedo sempre dal basso verso l'alto è un passaggio essenziale in quanto con la lancia andiamo ad aggiungere un'azione meccanica al prelavaggio quindi azione chimica più azione meccanica in quanto la pressione dell'acqua è talmente forte che riesce a staccare tutto lo sporco che la schiuma ha ammorbidito quindi prodotto di prima più lancia ci ritroviamo la macchina già in parte pulita e pronta per il prossimo step che è il lavaggio a mano con guanto e secchi che vedremo nel prossimo video quindi ragazzi per questo video è tutto vi ricordo di utilizzare lo sconto codice Michtuning ovviamente da utilizzare sul sito di solo dettagli car care vi lascio tutto in descrizione spero che il video vi sia piaciuto che vi stia piacendo la serie lasciate un mi piace se avete dubbi commentate iscrivetevi al canale per questo video è tutto ragazzi ciao a tutti ciao a tutti